ciao buongiorno amici della famiglia minimalista eccoci qua in questa giornata grigia uggiosa noi la giornata grigia ve la rendiamo più verde perché oggi inauguriamo la rubrica verde la mia rubrica verde la rubrica verde lo spazio l'angolino di gloria tutto questo dopo la sigla della rubrica oggi inauguriamo la mia rubrica verde il mio spazietto verde nel nostro canale ci vedete adesso seduti così solo per l'introduzione di questa rubrica ma in realtà poi questo sarà l'angolino di gloria esatto dico subito che non sono una professionista nel campo quindi non sono una fioraia non sono una vivaista non sono una coltivatrice diretta niente del genere sono semplicemente una ragazza che da due anni a questa parte le cura le ho comprate e quindi vi posso dare qualche tip qualche consiglietto per mantenere le sane e in salute esatto perché piano piano con comprarle sempre di più visto poi da un tour di piante abbiamo un po piante un po ovunque e più meno sono tutte in salute ovviamente durante l'arco di questi anni alcune piante purtroppo sono morte altre non stanno non stavano benissimo perché non sapevo come curarle quindi la cosa principale è quando ha questa nuova pianta e sapere come curarla esatto formatevi mi raccomando esattamente quindi detto questo cominciamo subito con i primi tips di gloria cominciamo come abbiamo detto con le piante un po più facili da curare ma non vi dico quali sono lo scoprirete subito tra pochissimo allora eccoci qui tornati nella mia bellissima rubrica verde oggi parliamo di piante semplici quindi delle piante in cui possiamo con cui possiamo cominciare la nostra strada verso il biliette allora oggi parliamo di epipremium aureum lo so sembra comunque una cosa così lunghissima in realtà sono i potos allora io ho i potos semplici quindi questi qui che si chiamano golden ma ne esistono comunque vari tipi e poi vi faremo vedere ce l'abbiamo anche un po in casa diciamo vari tipi di di potos questi sono tutti potos diciamo golden e potos quelli molto più comuni potos delle nostre nonne diciamo no anche perché sono molto facili anche da propagare quindi in casa ce l'abbiamo sicuramente delle talei di nostra nonna di nostra zia e diciamo qualche parentuccio allora partiamo subito con qualche tips che con cui io curo le mie belle pianticelle allora il potos diciamo subito che una pianta d'appartamento quindi no assolutamente non mettete la di fuori perché soffre tantissimo le gelate il freddo e dipende molto da dove vivete cioè magari comunque sarete di palermo quindi sarete nel sud quindi il potos vive benissimo anche fuori anzi dico questa cosa non esistono piante d'appartamento e piante da esterno nel senso che tutte le piante che noi abbiamo in realtà sarebbero da esterno perché la natura è così loro sono nate però e cresciute in un ambiente comunque caldo quindi non possiamo mettere all'esterno se magari siamo del nord soprattutto anche del centro in realtà dipende molto da come le coltiviamo partiamo subito allora il potos è una delle piante più semplici con cui cominciare perché comunque si adatterà anche se non siamo dei pollici verdi quindi piano piano diciamo si accontenterà anche se facciamo qualche sbaglio con lui allora il potos io lo amo perché si propaga facilmente e anche perché ecco come ho detto prima anche se siamo dei principianti lui ci come si dice si adatta facilmente prima regola quando portiamo a casa una nuova pianta ricordiamoci sempre che le piante devono adattarsi quindi per esempio se l'abbiamo comprato al supermercato ed era all'interno comunque stava in un posto un po' buglietto dobbiamo lasciarlo per 10-15 giorni in un posto un po' buglietto no nel senso che comunque dobbiamo lasciarlo adattare nella nostra casina la cosa fondamentale è non creare traumi quindi prima regola farlo adattare seconda regola non creare traumi quindi assolutamente nei 10 15 giorni successivi all'acquisto non si cambia mai il vaso mai perché comunque loro già devono adattarsi nuova luce nuova casa magari non abbiamo delle piante vicino invece magari al supermercato erano insieme altre piante quindi hanno un altro clima no perché le piante insieme creano umidità si creano umidità vicenda poi comunque interagiscono tra di loro ho letto un bellissimo libro che si chiama la nazione delle piante di mancuso lui parla proprio di come le piante tra di loro interagiscono è una cosa fantastica vi consiglio assolutamente questo libro perché a me cioè sono rimasta tipo bellissimo poi lui è fantastico quindi vi consiglio il libro suo allora terzo tips consiglio assolutamente buono che vi do è che le piante in generale ma in questo caso stiamo parlando del potos non vanno acquato no cioè nel senso le piante generalmente non vanno annaffiate tutti i giorni proprio perché soffrono tantissimo tantissimo il marciume radicale quindi marcisce marciscono le radici e la pianta decede probabilmente muore allora io faccio così quelle mie piante ultimamente strano molto bene con questo metodo allora come prima cosa non vanno annaquate poi utilizzate sempre lo stecchino io utilizzo uno stecchino semplicissimo di quel se ne avete più lunghi ancora meglio mettete lo stecchino all'interno del della terra quindi vi faccio vedere come faccio io prendo la pianta metto all'interno non avete paura delle radici perché le radici sono forti non hanno paura del di un piccolo stecchino tirate su fate come le torte veramente se lo stecchino è bagnato vedete qua se rimane comunque qualcosa significa che la pianta è bagnata e non necessita di annaffiamento poi potos come tutte le piante in generale soffrono tantissimo marciume radicale come ho detto prima quindi vanno annaffiate al bisogno mi raccomando quindi non le annaffiate a cadenza anche se magari le comprate c'è scritto il cartellino no annaffiare ogni sette giorni mai parlo perché magari la vostra pianta hanno la mente annaquata quando magari era al vivaio comunque era al supermercato che deciderà in poco tempo quello è il modo più facile per formare le piante annaffiarle a cadenza me l'ha detto anche un vivaio di qua vicino allora annaffiano semplicemente quando hanno bisogno basta quella è la regola generale per tenerle vive e sane in forma possiamo utilizzare anche la regola del vaso se il vaso è pesante significa che comunque c'è dell'acqua all'interno quindi non ha bisogno di annaffiature se il vaso è leggero invece comunque dovete annaffiarla le conclusioni allora io amo tantissime potos perché vi perdoneranno tantissime volte quando voi ve li dimenticate quando li bagnate troppo non troppo nel senso che se comunque li bagnate veramente troppo a una certa moriranno vedete comunque dalle foglie che si ingialliranno che comunque ci sarà il marciome radicale quando è così vi consiglio assolutamente di lasciarle asciugare se è estate lasciatele asciugare all'esterno che a luce solare li fa benissimo li fa ingrandire fa venire foglie molto più grandi li amo perché sono piante semplici si propagano facilmente e sono adattissime per i principianti questa è la mia rubrica verde e seguitemi il prossimo episodio per altri nuovi consigli attenzione per i principi Grazie a tutti. Grazie a tutti.